Cari ragazzi, visto che mi segue molta gente, quello che volevo fare è augurarvi veramente un buon anno, un buon tutto. Sono sicuro che nell'anno che sta sorgendo distruggeremo completamente ciò che ci tiene prigionieri qui, quindi quantomeno a livello metafisico, naturalmente io quando parlo di demolizione, di istruzione, di devastazione e di tutto ciò, mi riferisco sempre a un atteggiamento metafisico interiore, non mi riferisco mai a nessun tipo di atto concreto, vandalico, eccetera, per cui naturalmente da questo punto di vista distruggeremo tutto, distruggeremo le vecchie credenze. Siamo veramente tanti, non mi sarei mai aspettato di poter credere che siamo così tanti, siamo veramente molto determinati, siamo veramente rotti i coglioni della situazione, quindi porteremo veramente un significativo cambiamento nell'anno prossimo che verrà. L'anno 2023 ha dato il via a una crepa che si è prodotta nel grande muro di Matrix e il 2024 sarà l'anno in cui da questa crepa incomincieremo veramente a vedere che cosa c'è al di là, che cosa ci ha tenuti i prigionieri fino adesso e capiremo anche qual è la più efficace maniera di andare via di qui. Quindi vi auguro una serena partecipazione a tutto questo perché naturalmente lo faremo tutti insieme e niente, vi voglio bene ragazzi. Io cerco sempre di non dare seguito a tutto quello che mi scrivete, tutti i cuori, i cuoricini, gli abbracci, le cose, perché altrimenti potrei facilmente essere travolto a livello emotivo da tutto questo. Io voglio andare avanti come un treno, mi fa piacere che mi volete bene, mi fa piacere che mi apprezzate, mi fa piacere che mi scrivete tante cose, però il mio obiettivo è andare avanti e quindi non è soffermarmi su quelle cose lì. Quando distruggeremo tutto ci abbraccieremo forte e per adesso lo facciamo, lo facciamo oggi perché è l'ultimo dell'anno e possiamo festeggiare veramente un grandioso anno che è stato il 2023 da questo punto di vista e celebrare il nuovo anno con il nostro bel piccone in mano perché prenderemo ammazzate questo muro e lo faremo crollare e ci possiamo abbracciare anche un po' questo giorno perché veramente abbiamo fatto qualche cosa di clamoroso, ecco di clamoroso non altre parole, tutto quello che stiamo facendo, quello che sta emergendo, quindi vorrei veramente ringraziare tutti coloro che in un modo o nell'altro hanno partecipato a tutto questo, con i loro commenti, con i loro messaggi, con le loro condivisioni, con tutto ciò che hanno scritto, che hanno testimoniato e con tutto ciò che abbiamo fatto con i collaboratori, i miei collaboratori o come altro che è male, con i miei amici, con i miei collaboratori, questo qua è il nome che mi viene meglio, con i miei fratelli e sorelle con i quali abbiamo portato avanti certi discorsi nelle interviste, nei canali, qua e là e niente, andiamo avanti, andiamo avanti come treni, niente ci può fermare, non c'è nulla che ci può fermare. Un gran abbraccio di cuore, buon anno, buon tutto e vi voglio bene, ciao!